Buona giornata amici di Fano TV, oggi è mercoledì 16 novembre 2022, questa è la rassegna stampa, iniziamo insieme la giornata dando un'occhiata ai giornali, il resto è Carlino, Corriere Adriatico, leggeremo le notizie che si riferiscono ai fatti che sono venuti nella giornata di ieri e i giornali riportano ancora tanti altri particolari per quanto riguarda il terribile delitto che è stato compiuto a Fano dove è stata uccisa una immigrata ucraina di 23 anni, noi però iniziamo la nostra trasmissione, la nostra rassegna stampa a partire dall'almanacco e vediamo qual è il santo del giorno, oggi si festeggia Santa Gertrude la Grande e quando c'è questo aggettivo, vi ricordate ieri abbiamo festeggiato Sant'Alberto Magno, poi ancora San Leone Magno, insomma abbiamo questo aggettivo che dimostra la grandezza, l'importanza di queste figure nella storia della chiesa. Santa Gertrude la Grande visse nel XIII secolo in Sassonia, a cinque anni, a soli cinque anni fu posta in convento, ma lei non si sentì obbligata di questa decisione che fu assunta dai suoi genitori, i quali appartenevano ad una famiglia molto nobile e mostrò subito una grande predilezione sia per gli studi sia per la pratica della fede, quindi alternava allo studio tanti tante ore di preghiera, ebbe anche delle visioni e fu la prima propagatrice del Sacro Cuore di Gesù, un culto che poi ebbe anche tanti tanti emoli nel corso dei secoli, Santa Gertrude la Grande. E previsioni del tempo, questa mattina una pioggerellina sottile, sottile, dopo una notte di pioggia ha cambiato un po' le condizioni atmosferiche rispetto al passato, vediamo che per oggi le previsioni dicono che i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in contemporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma saranno poi in ripresa durante la sera, quindi ci sarà momento di calma nelle ore pomeridiane, sono previsti 5 mm di pioggia, le temperature si aggireranno tra i 13 e i 15 gradi e il mare oggi è poco mosso. Allora apriamo il giornale a partire dal Corriere Adriatico, vedendo appunto quello che si dice in merito al delitto diciamo così che è stato compiuto qui a Fano. L'ultima telefonata fatale intitola il Corriere, ci sono ancora due pagine dedicate a questa vicenda, ti lascio aprimi la porta. Sono gli ultimi istanti, gli ultimi dialoghi che sono intercorsi tra il marito di Anastasia e la ragazza stessa. Era una famiglia ormai in sfacelo, i due si stavano per separare e il marito non ne voleva sapere di perdere la moglie. Anastasia aveva chiamato il marito per prendere i vestiti, era andata ad abitare in un altro appartamento, quello di un conoscente, un collega di lavoro con il quale probabilmente aveva tessuto una nuova relazione, liberandosi da quel marito che si era fatto pesante, oppressivo, minaccioso. L'avvocata alla quale si era rivolta la ragazza dice a causa della guerra non percepiva il pericolo. Sì perché Anastasia aveva passato dei momenti molto brutti a Kiev, la città soggetta ai bombardamenti dai russi e quindi questo rapporto conflittuale con il marito le sembrava una cosa più leggera, in realtà invece era molto pesante. C'è stata una generale sottovalutazione del pericolo da parte di Anastasia, ha detto l'avvocata Lauro Arampioni del foro di Bologna a cui si era rivolta Anastasia. Le avevo detto che suo marito rappresentava per lei una persona pericolosa. Quando le ho chiesto perché non avesse chiamato prima per la denuncia e perché non avesse paura, lei mi ha risposto perché aveva vissuto la guerra ed era abituata ad affrontare quanto più brutto poteva esserci. E poi abbiamo altri risvolti di questa storia, il Corriere Adriatico parla degli interessi, delle passioni che erano state coltivate da Anastasia. La scuola di musica dell'Age era una di queste. Lei insegnava pianoforte e il direttore Ferretti appunto l'aveva presa con sé. Il nome dell'Ucraina a fianco di Bramucci, il primo storico insegnante. Bramucci era appunto Rodolfo Bramucci che poi è deceduto, era colui che aveva iniziato questa scuola. Anastasia Lashiri ha vissuto solo pochi mesi a Fano, città, ma il suo amore per la musica lascerà il segno. Infatti la scuola di musica dell'Age aggiungerà il suo nome e il suo nome a procura di Anastasia a quello di Rodolfo Bramucci, un segno di riconoscenza per questa ragazza che era venuta in Italia per cercare un futuro migliore, una pace, una serenità e invece ha trovato la morte. Allora diamo un'occhiata anche cosa dice il resto del Carlino in merito a questa vicenda e vediamo che anche qui ci sono due pagine che il giornale riserva a questa vicenda. In questa fotografia abbiamo l'avvocato Rampioni che è l'avvocato di Anastasia. Le avevo detto di non andare da lui, sapevo che era un uomo pericoloso. Lei era andata a riprendersi nella sua vecchia casa i vestiti. L'avvocato l'aveva detto non rimanere mai sola con il tuo marito. Ogni incontro magari necessario deve venire all'aperto e in compagnia di un'altra persona in modo che tu possa essere tutelata. Purtroppo questo però non è avvenuto. Non lo aveva denunciato in Ucraina perché di fronte alla guerra quello che viveva in casa le sembrava niente. E qui c'è appunto questa esperienza dura che Anastasia aveva vissuto nel suo paese. Anastasia mi ha aggredito e io l'ho uccisa. Sarebbero le parole che il marito ha pronunciato quando è stato poi arrestato di fronte agli inquirenti. Il marito assassino da dunque la sua avversione. Ho messo il corpo nella valigia e l'ho portato in un bosco. Il giudice convalida il fermo. L'ho ammazzata per difendermi. Ha detto il marito. Voleva accoltellarmi. Questa è la sua tesi. Io ho cercato di ripararmi e nella lotta lei è rimasta ferita a morte. Poi ho portato il corpo in un bosco ma dentro una valigia. Non potevo lasciarla in casa. E adesso ascoltate che cosa ha aggiunto il marito. E io dovevo continuare il giro delle consegne col furgone della pasticceria. Cioè dopo il delitto questo individuo ha continuato a fare il suo lavoro come se niente fosse. Poi ha preso i suoi risparmi, 3.500 euro, ed è partito in treno alla volta di Bologna. Ma alla stazione di Bologna è stato arrestato. Perché i carabinieri sono stati tempestivi nell'individuarlo e quindi nel arrestarlo. E poi c'è una mobilitazione per quanto riguarda il figlioletto. Un figlioletto di due anni che ora ha il padre in prigione e la madre morta, uccisa dal marito. È stato affidato momentaneamente alla famiglia Carloni, titolare del ristorante della Peppa in cui lavorava appunto Anastasia. Ma è una sistemazione provvisoria. Sta infatti per arrivare in città la mamma di Anastasia. La signora abita in Slovacchia e dovrà prendersi cura del bambino che prioritariamente deve stare con i congiunti dei genitori se questi vengono a mancare. Questa è un po' la prassi e la legge. Ma intanto il destino del bambino dovrà essere valutato sia dai servizi sociali del Comune di Fano sia dalla Tribunale dei minori di Ancona. Ci sarà dunque l'obbligo di una soluzione ma la probabile è quella di affidarlo appunto alla nonna, alla madre di Anastasia. Allora continuiamo la nostra rassegna stampa sempre leggendo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. E qui si ritorna sulla rissa che si è verificata sabato scorso in Via Nolfi Sud. Anche coltelli e bottiglie come armi allarme per un'altra rissa in Via Nolfi. Sembra che l'episodio che si è verificato sabato notte non sia stato l'unico che ha messo in subbuglio quel quartiere destando grande apprensione da parte dei residenti. C'è un clima molto caldo che vigeva da tempo. Dalla via del centro storico rimbalzano voci secondo cui nell'ultimo weekend all'incrocio con Via dei Borgoggelli e Via Nolfi sarebbe avvenuto uno scontro ancora più grave di quello che ha visto due bande di extracomunitari affrontarsi con manganelli e catane. In questo caso secondo quanto riferisce un residente che ha ascoltato le testimonianze poi dei ragazzi presenti in quella cosa sarebbero state usate nella rissa tra quattro persone bottiglie di vetro e coltelli mentre uno dei due assalitori arrivati a forza e velocità in auto mostrava nella cintola addirittura una pistola e questo significa che non sono più ragazzate ma sono veri e propri atti delinquenziali. E poi c'è anche un risvolto in questo articolo riguardo all'aggressione di due ragazzi pesaresi avvenuta qualche mese fa davanti alla Rocca Malatestiana. vediamo che il giudice ha ridotto la condanna a Robert Costas il 21enne accusato per quell'episodio di rapina e lesioni aggravate ma non dall'omofobia. I due ragazzi sono stati aggrediti e rapinati perché per il branco lo smalto nero nelle unghie era intollerabile non era accettabile quindi sono intervenuti aggredendo questi ragazzi e rapinandoli dei loro cellulari. E guardate che proprio a due passi dal luogo in cui è venuta questa rissa domenica scorsa si è inaugurata la nuova sede dell'Associazione Carabinieri in Congedo. Ebbene quando uno è in congedo rimane sempre carabiniere e quindi la mentalità, la passione e il rispetto delle regole, delle leggi e dell'ordine pubblico che ha improntato tutta la sua vita rimane anche quando non potrà più mettersi la divisa. E questo presidio che è stato istituito in via Gasparoli numero 60 che è una traversa di via Nolfi nei pressi della chiesa di San Marco costituisce un punto importante anche come presenza per l'ordine pubblico. E' non molto lontano, è avvenuta la rissa ed ora però la presenza di questi carabinieri in congedo potrà essere un punto di riferimento per tanti cittadini sia per i residenti che per tutti coloro che abitano nel centro storico. E poi si parla ancora del terremoto. Si parla ancora del terremoto perché le scosse di assestamento ancora procedano e anche ieri se ne sono avvertite alcune. Ferite del sisma in chiese e conventi, danni per almeno 250 mila euro. E questo quanto è stato calcolato dal responsabile, dal direttore dell'ufficio diocesano dei beni culturali, Marco Boschini, che ha rilevato anche danni che il sisma ha determinato nel chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino, la parte superiore agli scavi di Vitruvio che si trovano nel sottoterra e questi non hanno avuto dei danni. E quindi l'area archeologica è rimasta indenne. Ma nel chiostro sono stati indeboliti i pilastrini che reggono appunto le volte e qui si è proceduto con un rinforzo, un anello di ferro che al momento li rinsalda per poi procedere ad un intervento più esaustivo, più completo. Per fortuna non sono stati danneggiati gli avanzi degli affreschi del Begni che narrano le storie di Sant'Agostino all'interno del chiostro. Danni nelle altre chiese ovviamente e il giornale ricorda quanto avvenuto sia nella chiesa di Ronco Sambaccio dove sono stati segnalati, rilevati i danni più gravi, sia nella chiesa di Sant'Andrea in Billis e in quella di Montemaggiore. In tutta la città verranno sostituiti i lampioni attuali con lampade a LED, un ingente investimento da parte dell'ASET. È stato presentato dall'amministrazione comunale. Si tratta di 3 milioni e 400 mila euro che il bilancio dell'ASET proporrà per la città di Fano. LED su tutta la città accadrà nel prossimo anno, nel 2023, con un eventuale scivolamento nella prima metà del 2024 se non si riuscirà a completare tutto l'intervento. In totale il territorio comunale conta 13.815 lampade LED che sono state già montate su 4.615 lampioni nel corso delle campagne precedenti. Insomma si sta rivoluzionando tutto l'apparato energetico della città di Fano. Si ottiene risparmio, si ottiene più illuminazione e quindi questo è anche un insegnamento per coloro che anche nella propria abitazione tenderanno fare questo perché poi risparmiare è importante in questo periodo di crisi. Giriamo le pagine e siamo ancora a Fano dove vediamo che ieri è stata presentata la nuova edizione di Sapori e Romi d'autunno. La manifestazione che si terrà in due giornate, due domeniche, quella di domenica prossima 20 novembre e quella successiva del 27 novembre al Codba ed è una vera e propria sinfonia, sinfonia di prodotti autunnali. L'autunno è una stagione, si dice forse scialba, forse così a metà strada tra l'estate e l'inverno, in realtà è una stagione molto molto proficua per i prodotti dell'agricoltura. E negli stand del Codba, quasi 100 stand, hanno detto ieri gli organizzatori, ci saranno funghi, castagne, olive, noci, formaggi, tartufi, mele, pere, cachi, salumi, ortaggi, miele, marmellate, confetture, pane, prodotti da forno, dolci, tipici, vini, olio extravergine, insomma veramente non si finisce mai di elencare le bontà di questo autunno che nonostante il maltempo, nonostante il terremoto, nonostante il covid, nonostante tutte le disgrazie che sono capitate in questi ultimi tempi, ebbene la terra ancora per fortuna produce e produce bene, sono prodotti di alta qualità, quindi nei prossimi giorni andare al Codba è veramente una passeggiata proficua. Ed ora andiamo invece nelle altre località, vediamo che a terre roveresche il sindaco Sebastianelli farà un biodigestore improprio, si tratta di un impianto da 450 tonnellate con un investimento di 1.200.000 euro tratto dal PNRR. Il progetto è stato finanziato con questi fondi ed è in lista d'attesa nella graduatoria del Ministero della Transizione Ecologica. Si dice che chi fa per sé fa per tre e così ha fatto il sindaco Sebastianelli. A Cantiano invece si contano ancora i danni per l'alluvione. Danni per 62 milioni di euro e da soli, dice il sindaco Piccini, non possiamo farcela. E quindi occorre un sussidio, un contributo da parte dello Stato. E mentre ieri il presidente Acquaroli svelava all'Assemblea Confindustria, la riunita a Senigallia, che i danni provvisori stimati dall'alluvione erano circa di un miliardo di euro, a Cantiano, il sindaco Alessandro Piccinini ha lanciato a suon di cifre la sua richiesta, la richiesta dei suoi residenti, dei suoi abitanti, 62 milioni che vanno ad aggiungersi poi a tutti i danni che hanno subito anche le altre popolazioni, quelli che abitano nei pressi del Misa, del Nevola, insomma in provincia di Ancona a Senigallia. Vediamo anche Senigallia dunque, ponti ciclopedonali, ecco i progetti, quello del porto sarà pronto per l'estate. È stato affidato l'incarico di realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale nel porto che per la prossima estate dovrà collegare il lungomare prendendo il posto di quello attuale, girevole che è stato poi danneggiato dalle acque. Ieri mattina è stato siglato l'accordo per il ponto ciclopedonale previsto nel progetto della ciclovia adriatica, quindi una nuova struttura che renderà più agevole la viabilità appunto nel centro di Senigallia. Vediamo ora le altre notizie che riguardano Pesaro pubblicate dal Corriere Adriatico. c'è una nuova perizia per la scuola Olivieri dove i genitori dei bambini che frequentano la scuola sono preoccupati per la stabilità della stessa nonostante le assicurazioni fornite dall'amministrazione comunale. L'assessore Pozzi infatti rassicura esito entro metà di gennaio. I genitori però non si fidano e dicono dateci le indagini, dateci poi le indagini che eseguirete, quindi fateci conoscere l'esito di questi controlli. E qui parliamo invece dei funerali di Milena, la studentessa di 14 anni che è deceduta, la studentessa di Monbaroccio che è deceduta in seguito ad un incidente stradale. Addio a Milena, Monbaroccio si ferma, l'arcivescovo Salvucci, l'arcivescovo di Pesaro celebra i funerali. Cerimonia alle 14.30, lutto cittadino, dimessa alla studentessa coetanea della 14enne, ferita dello schianto, almeno lei si è salvata. E poi vediamo come all'ospedale Santa Croce c'è stato un espianto, un prelievo multiorgano, un 68enne ha donato fegato, reni e cornee. Era un 68enne un paziente ricoverato e deceduto in rianimazione al Santa Croce di Fano, i cui familiari hanno dato il permesso, hanno consentito alla donazione degli organi. Ebbene gli organi prelevati saranno destinati. Il fegato all'ospedale Niguarda, i reni all'ospedale di Brescia, le corne alla banca degli occhi della Regione Marche, all'ospedale Profili di Fabriano. Questa è un po' la destinazione di questi organi, un atto veramente incomiabile da parte dei parenti che nel dolore per la perdita appunto del loro familiare hanno trovato il coraggio di fare del bene alle altre persone. Morto in auto, riverso sul volante, è stato scoperto così Patrizio Pierucci, di 57 anni, un assicuratore che stava andando al lavoro nella sua agenzia di Montecchio. Non c'è stato purtroppo nulla da fare, è stato trovato riverso sul volante della sua auto, parcheggiata sotto gli uffici della cattolica, la compagnia di cui Pierucci era agente generale, un lutto. E poi vediamo come ancora sul resto del Carlino si parli su Urbino di quello che sta avvenendo sul fronte della sanità. e qui le note sono amare. I sindacati ormai rompono la tregua. Area vasta e Marche Nord, troppe incertezze su precari. È futura AST, questa nuova organizzazione della sanità che dovrebbe far spostare l'azienda ospedaliera nell'area vasta. È stato proclamato dai sindacati lo stato di agitazione. Che cosa chiedono i sindacati? Chiedono parecchie cose, ne leggiamo alcune. Incertezza sulla proroga dei contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre. Questa è una delle difficoltà che i sindacati rilevano. Aumento dei carichi di lavoro per il personale dipendente in servizio a seguito della mancata proroga dei contratti a tempo determinato. Mancato rispetto della normativa vigente e contrattuale sul godimento dei riposi per il recupero psicofisico. E poi ancora mancato rispetto della normativa vigente e contrattuale sul godimento dell'istituto delle ferie ed in particolare quelle residue dell'anno di maturazione. E poi ancora si continua sulle rivendicazioni, rilevando le rivendicazioni di quanto i lavoratori sulla sanità hanno nei confronti della direzione ospedaliere. Insomma ci sono alcuni diversi, più che alcuni problemi da risolvere. Cordoglio per l'insegnante. Tra volte è uccisa a Tortolì. Beatrice Ubaldi da giovane aveva abitato in centro prima di trasferirsi e ha fatto il giro di Urbino, la notizia della morte di Beatrice Ubaldi, la docente originaria della città ducale che è stata travolta lunedì scorso nel pomeriggio in periferia di Tortolì nel territorio di Ogliastra da una Fiat Panda guidata da un operaio. Ed ora vediamo le notizie che ancora pubblica il resto del Carlino. La pagina di Fano viene dedicata ad una presa di posizione del sindaco Massimo Seri in ordine al punto nascita che dovrebbe essere riattivato nella città di Pesaro. Si parla dell'8 dicembre. Crociata di Seri per il punto nascita, se torna a Pesaro il livello peggiora, dice il sindaco di Fano. In vista della riapertura del blocco di materno infantile a San Salvatore, ormai mancano pochi giorni, ricordiamo che il blocco fu chiuso per il Covid, c'è un altolà del sindaco Seri. In assenza di personale sufficiente, donne e neonati saranno privati dei migliori servizi di cui ora dispongono, perché tutto quello che si fa a Fano in questo momento è ottimale. Ed è ottimale non solo per i fanesi, ma anche per i pesaresi, dice il sindaco Seri. E dunque non si può riaprire il punto nascita senza la garanzia, il 5 dicembre, scusate, prima ho detto all'8, invece il 5 dicembre, questa è la data prevista per l'apertura di questo nuovo reparto, senza la garanzia di disporre sia su Fano sia su Pesaro del personale sufficiente ad affrontare qualsiasi emergenza in totale sicurezza. E vedremo che cosa deciderà la direzione sanitaria. Piatto ricco al Codma, due domeniche di gusto, oltre 100 stand attesi per la carmesse di sapori e aromi d'autunno, appuntamento il 20 e il 27 novembre con le eccellenze marchigiane. Di questo abbiamo parlato. Parliamo ora invece di un personaggio importante, di un personaggio storico che è apparso più volte alla rebalta della stampa. Si parla di Giuseppe Ottaviani, deceduto a 104 anni, ma prima di morire aveva fatto tante imprese di carattere sportivo che bisognerebbe fargli un monumento. Ed ora sulla sua scia, sulla sua strada, si incammina la figlia Marzia, che è diventata campionessa italiana di maratona femminile over 55. Io sulle orme del babbo, dice appunto Marzia, che ha letteralmente scritto il padre, la storia dello sport mondiale degli ultracentenari. nonostante che avesse compiuto 100 anni, sembrava ancora un atleta in piena forma. Marzia, 56 anni, avvocato, figlia di Giuseppe, proprio a lui deve il suo approccio al mondo dell'attività sportiva, che l'ha condotta domenica scorsa a Ravenna a conquistare questo titolo italiano 2022 di maratona femminile nella categoria F55, ovvero donne superiori ai 55 anni. Un bel record per tutta la famiglia. Ad Urbino la sfida di Valentina, dalle stampelle alla maratona. E qui parliamo anche di un'altra atleta. In soli otto mesi una giovane mamma urbinata, si tratta di Valentina Guidi, è riuscita a curare la tibia fratturata e a partecipare alla celebre sfida a New York. Ebbene, ha completato la maratona in 5 ore, ma caspita, dopo aver subito la frattura della tibia, ha recuperato in una maniera molto molto celebre e ha partecipato ad un'impresa considerevole, la maratona di New York dal ponte di Rarazzano al parco centrale di Manhattan, insomma al Central Park, è un'impresa da non sottovalutare. Vediamo le altre notizie che riguardano Pesaro sul resto del Carlino. Milena si è ancora qui accanto a noi, è il cordollo suscitato dalla morte di Milena Lentini, la ragazza di 14 anni. L'altra sera si è celebrato il rosario per commemorare appunto questa ragazza, questa bella ragazza che è deceduta in seguito ad un incidente stradale. E qua invece abbiamo un altro incidente stradale che riguarda un incidente che è accaduto sull'autostrada. I maiali caricati sul camion sono finiti sulla strada. E con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Io vi do appuntamento alle 7 di domani per ulteriori notizie. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per l'ascolto.